La fusione nucleare, secondo la roadmap internazionale, o meglio, tutti quelli che lavorano in questo campo stanno provando a renderla disponibile per, diciamo, attorno al 2050. Quindi questa è un po' la data in cui si spera, ci si auspica, che si riesca ad avere il primo prototipo di reattore vero e proprio. Ok, quindi diciamo che ci sono ancora almeno trentina d'anni prima che la fusione nucleare... Sono di ricerca principalmente, sì. Esatto, quindi di fatto possiamo dire quindi che la fusione nucleare adesso, ad oggi, è essenzialmente ricerca, cioè continuo a tendere verso questo sogno che è il controllo di una reazione e poi ovviamente lo sfruttamento di questa reazione per produrre di energia. È sicuramente ricerca in questo momento. Penso che la chiave di volta, o non so come dire, il vero punto appunto di svolta possa essere il funzionamento di ITER. Quindi se penso anche dal punto di vista degli investimenti privati, penso che il vero aumento di investimenti privati possa avvenire dopo che ITER avrà dimostrato la fisibilità di questa tecnologia. Quindi a ITER non mancano molti anni, come abbiamo detto prima, quindi siamo in un periodo in cui è veramente importante riuscire ad accendere ITER e a portarlo a termine. E penso anche per questo i risultati di JET siano così importanti, perché si collocano esattamente nella roadmap secondo cui riusciamo ad accendere ITER. ITER funzionerà come ci aspettiamo e quindi bene, questo fa ben sperare, anche come dicevo prima, come auspico dal punto di vista di quello che poi saranno effettivamente gli investimenti anche del settore privato. Una volta che ITER avrà dimostrato di poter fare quello per cui ho progettato. Quindi di fatto si tratta sempre di un lunghissimo cammino e proprio questo cammino consente di imparare molto sulla tecnologia, su nuove tecnologie, su nuovi approcci e quindi trovare nuove soluzioni che possono essere applicate non solo nell'ambito della fusione, ma anche in altri ambiti ovviamente. E certo, tutte le tecnologie, scusami se ti interrompo, ad esempio le tecnologie dei magneti sono sicuramente, come dire, tecnologie che poi potranno essere sviluppate e sfruttate anche in altri ambiti, ad esempio. Come anche un altro esempio banale, o se vuoi non banale, ma il sistema criogenico, quindi quello che dicevamo prima per raffreddare i magneti di ITER a 4 Kelvin, ci vuole tutto un sistema di pompe criogeniche, di sistemi per pompare l'elio liquido. Ecco, questo sistema è ad oggi il più grande al mondo, o sarà quando sarà in funzione. Più grande di quello, ad esempio, stessa tecnologia sia al CERN, quindi nell'LHC, che è a 27 chilometri di circonferenza, c'è lo stesso sistema e quello di ITER è addirittura più grande di questo. Quindi, come dire, proprio dal punto di vista anche ingegneristico e delle tecnologie impiegate, ITER sarà ed è un vero e proprio colosso, diciamo.